il wheelchair gp è una gara che vede protagoniste persone con motorogine neuromuscolari l'organizzatore che è michele sanguine 32 anni con distrofia di ducene noi ragazzi con la distrofia di ducene possiamo fare poche cose una di queste guidare perché abbiamo un potente mezzo a nostra esposizione che ci permette di muoverci di correre schivare gli ostacoli siamo guidatori professionalisti più di un pilota o di un agente di commercio tutti i giorni sulla nostra carrozzina elettrica tutto iniziato così volevo organizzare un pomeriggio diverso dal solito una gara con amici tutti con le carrozzine elettriche con il passaparola questa idea sembrava piacere interessati aumentavano e aumentavano e da pochi diventano sempre di più dopo che nicola vincenzo e mauro si sono resi disponibili ad aiutarvi preso dall entusiasmo riattivo per organizzare un vero il proprio evento devo dire la verità la prima cosa era quello pensato sì è stata quella che di cercare le ragazze ombrellino che secondo me avrebbero reso un evento che ancora più simile ad una gara come il moto mondiale o la formula 1 ho trovato subito la disponibilità di un'agenzia di modelle dopodiché ho cominciato ad attivarmi per trovare sponsor che una volta capito che l'idea poteva diventare realtà a questo punto sono andato nel cartodromo di cassano magliago che in provincia di valese trovate la disponibilità del proprietario ci siamo attivati per partire alla grande con una prima gara test per motivi organizzativi inizialmente ho deciso di chiamarla luce ngp gara riservata ragazzi con la mia stessa motologia essendo una malattia rara che i vanticipanti non sarebbero stati troppi per un primo esperimento abbiamo creato un indirizzo mail dove ricevamo le iscrizioni coinvolte giornalisti e vittenti locali e le associazioni inerenti alla distrofia come la uil dm così il 5 giugno 2015 l'evento è stato un successo che tutto è andato alla grande inizialmente le gare si sono tenute al cartodromo di cassano magliago poi le gare sono aumentate monica del garda montano lucino crozzano e 9 ottobre 2016 cambiamo inoltre organizzato l'esibizione alla fiera di dovevano chiamati a partecipare dell'associazione sapere di milano che si occupa di bambini affetti di atrofia muscolare ispirale e oggi ci troviamo dal luce ngp al wincher gp gara avverta tutte le patologie senza limite di età con un sito ufficiale con una pagina facebook e mogoli di iscrizione online il nostro staff è diventato numeroso tutti noi ci dividiamo gli incarichi c'è chi si occupa della segreteria chi delle iscrizioni chi delle ragazze o bellino chi degli sponsor dell'assistenza in pista chi delle fotografie dei videomaker come claudio e manuela che realizzano ad ogni evento con video che poi carichiamo sempre su facebook che sul nostro sito e non manca neppure l'intrattenimento musicale grazie a dj for differenze wincher gp differenze ieri e oggi ieri gare time attack a cronometro o gara suddivisa in tre categorie di velocità in esistenza di loghi numeri e nomi dei team in esistenza campionato regole di sicurezza base oggi gare suddivise in time attack che campionato scelta di loghi numeri nomi e team modificare con le base di sicurezza regolamento per alcune carrozzine turbo twist e neatec regolamento modificato per la velocità della carrozzina differenze categorie wincher gp regole time attack gara cronometrata sul singolo compodio scelta numero personale regolamento turbo twist e neatec aggiunta di 15 secondi supplementari cintura di sicurezza durante la gara che regole gran premio gara squadra e versione formula 1 cioè due piloti per team con voglio e previazione completa tutti i team a fine campionato previazione con gadget sponsor durante il campionato scelta numero a persona e scelta logo per team regolamento turbo twist e neatec partenza per ultime su una griglia di partenza cinture di sicurezza durante la gara progetto a carico di michele sanguine presidente wii cgp delizzo a letto direttore sportivo sappiamo che le piste gratuitamente a nostra disposizione sono rozzano provincia di milano montano lucino provincia di como monica regalda provincia di brescia affi provincia di verona che parma così da comprendere lombardia emilia romagna e vento l'idea è questa creare un campionato magari del nord italia chiederà le will con una partecipazione così magari se due ragazzi però di will si vogliono iscrivere al nostro campionato si può creare un vero e proprio challenge sportivo l'idea è quella di creare sul sito un modulo di iscrizione al campionato con la scelta dei nomi che dei loghi ecco qui di seguito qualche logo daremo questa possibilità sul nostro sito dove si troverà il regolamento il logo da scegliere che il nome della squadra sarebbe bello per ogni squadra avere una maglietta e una tuta come ogni squadra sportiva per identificarsi spero che questa idea vi possa piacere spero di avere presto delle vostre risposte grazie per l'attenzione un abbraccio da michele alla prossima